Giovedì 17 marzo, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa. Prima dei quotidiani ci occupiamo di sanità, ci occupiamo del Neuromed che riduce gli stipendi perché la regione molise non paga. Sull'argomento ascoltiamo la segretaria della Will Tecla Boccardo. La Neuromed ha comunicato che non potrà pagare il 100% dello stipendio ma soltanto un importo fino a 2000 euro netti mensili perché la regione molise ancora una volta non ha pagato quanto dovuto alla Neuromed per le prestazioni effettuate. Questo è quello che si legge nella nota che dà sta preoccupazione perché si mettono a rischio imprese ma soprattutto posti di lavoro, cominciando adesso dallo stipendio. Questo avviene per logiche e scelte che sono incomprensibili, logiche e scelte che non conosciamo ma che chiediamo che vengano risolte sui tavoli giusti. Le logiche che non centrano nulla con il diritto alla salute e che non possono farsi ricadere sui lavoratori. Pertanto chiediamo alla regione di immediatamente di provvedere alla soluzione della questione, della problematica perché c'era stato detto che la situazione si sarebbe risolta a breve ma a quanto pare non è ancora risolta. Saremo al fianco del lavoratore e metteremo in campo ogni azione possibile in difesa del diritto del lavoratore a percepire lo stipendio. Ed ora il coronavirus, i numeri dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale del Molise. Ancora un decesso a causa del Covid in Molise nel reparto di terapia intensiva. Si è spenta una donna di 78 anni di Isernia al Cardarelli di Campobasso. Tre nuovi ricoveri, pazienti di Termoli, del capologo di regione di Castel Mauro e quattro dimissioni. I degenti quindi sono 25 malattie infettive, uno in rianimazione e 14 in anziano. I nuovi casi sono 292,31 emersi dai 116 tamponi molecolari processati dall'ASREM e 261 dai 1026 test rapidi analizzati dalle farmacie. Il tasso di positività è al 17,7%, guarite 203 persone. Gli attualmente positivi salgono a 6.895. E ora i quotidiani. Iniziamo come sempre da Primo Piano Molise che in apertura si occupa proprio della vicenda del Neuromed. La Regione non paga, Neuromed riduce gli stipendi. Il Presidente De Gaetano scrive al personale per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Istituto la remunerazione avverrà fino a un importo massimo di 2.000 euro. Boccardo contro Palazzo Vitale, logiche e scelte incomprensibili che non centrano con il diritto alla salute. Di spalla c'è il punto del sottosegretario Roberto Di Baggio che si occupa della riforma del catastro e dice colossale presa in giro. In taglio alto, eolico, parco a Riccia, ma cabine e cavidotto a Cerce Maggiore il Sindaco Mascia lancia la petizione. Poi c'è l'intervista a Piero Castrataro, al Sindaco di Sernia, sulla sanità. Buoni gli impegni assunti, spero non siano promesse elettorali. Il bollettino, un decesso, tre ricoveri e quattro dimessi. Contagi in costante aumento. In taglio basso, domani a Campobasso, aiuti alle imprese. Il PD illustra la nuova carta a finalità regionale. Fanelli, tante chance per il Molise. Domani alle 15 presso lo spazio sfuso di Piazza Pepe, un incontro informativo sulla nuova carta di aiuti alle imprese a finalità regionale. In taglio centrale, invece, c'è lo sport con il buon pari del Campobasso a Catania. Bontà risponde a Russini, affanno nel finale per l'espulsione di Pace, che salterà il Latina. Ci sono anche le altre notizie con la vicenda ospedali, soprattutto con le assunzioni a tempo indeterminato. Toma reperiti 8 milioni, usciremo dall'impasse, dice il commissario ad acta. I trasporti, la ricetta del Movimento 5 Stelle, società in house per la gestione del servizio. E poi Campobasso, città invasa da cumuli di neve, Chierchia. Eccolo il cambiamento. Ci sono anche gli altri richiami di sport, con l'impresa dell'Isernia. Grande Isernia, l'Aquila vince, ma si arrende dopo 16 rigori. Ora l'ossese, formazione sarda. Mentre per l'eccellenza l'Olimpia agnonese rifila tre reti alla Cliternina nel recupero. I quotidiani nazionali, il messaggero, missili sui civili con questa foto, che spiega più di ogni altra parola. Bombe sul teatro di Mariupol, rifugio di sfollati, colpiti cittadini in coda per il pane. Kiev razzi sulla piscina comunale. E poi allarme di Bonomi al governo, interventi subito o paralisi. Intervista al presidente di Confindustria. Un tetto al prezzo del gas. Ci sono le agevolazioni per chi rientra in Italia. Tassazione giù al 7% ai pensionati per vivere nelle zone del terremoto. Lasciamo il messaggero. Andiamo ora sul Corriere della Sera. L'attacco all'Ucraina con questa foto. Orrore nel teatro di Mariupol. Questa l'apertura del Corriere. Ride sul rifugio con mille civili. Zeleschi, aiusa da noi ogni giorno è l'11 settembre. Ed eccolo il presidente Zeleschi in collegamento con il congresso degli Stati Uniti. Prove di pace con Mosca. Il Corriere della Sera si occupa anche del taglio al caro benzina. Più spese militari. C'è il sì. Riduzione di 15 centesimi al litro. Aiuti ai profughi. Lasciamo il Corriere. Ora la Repubblica. Putin negoziati e massacri. Anche Repubblica pubblica. Il teatro dove si erano rifugiati un migliaio di civili completamente distrutto da un missile russo. Passi avanti nei colloqui per fermare le armi. Il Cremlino non vogliamo occupare l'Ucraina. Le condizioni sono quelle di Kiev che resti neutrale. I russi aumentano gli attacchi. Strage al teatro di Mariupol. Le bombe sulla fila per il pane dove c'erano delle persone. Biden, lo czar, è un criminale. La camera vota spesa militare al 2%. Del PIL e benzina domani. Le misure del governo. Ora il fatto quotidiano con questa immagine in taglio centrale. Intesa su Kiev. Neutrale. Poi l'ite tra Biden e Putin. Ottimismo sui negoziati. Poi Joe Biden dice che sta armando l'Ucraina da un anno. e chiama criminale lo czar per l'attacco a Mariupol. In taglio alto boom di spese militari. Tutti i partiti sull'attenti saliranno da 26 a 38 miliardi. L'anno e ancora chi ha armato Putin, Parigi, Berlino e Roma fino al 2021. violando l'embargo e dunque dice il fatto quotidiano. Ci sono dei complici. Il sole 24 ore. Ucraina. Spunta un piano per la pace. Massacro di civili al teatro di Mariupol. L'attacco della Russia. Bozza d'intesa in 15 punti. Ma Kiev tira il freno. Sono solo le richieste russe. Attacco bombe a Odessa. e nella capitale Biden-Putin. Criminale di guerra. E poi c'è la Fed che accelera la stretta anti-inflazione. Tassi su dello 0,25%. Pronti altri rialzi. Si parla anche di CIG di emergenza per i settori in crisi. In taglio centrale. Aiuti alle imprese. Due ipotesi, regole facilitate per problemi di materie prime o sconti a comparti alle corde. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, con la Rosa, con la debacle della Juventus. La Juve sbatte. Il muso, il titolo scelto dalla Rosa, con Vlaovic e Di Bala. che riflettono Italia cancellata dalla Champions. La signora dura un tempo con traversa di Vlaovic. Poi il Villarreal ne fa tre anche allegri e fuori. Puniti al primo errore le sue dichiarazioni. E intanto il Milan pensa a Origi. Tutti Inter, tutti in gioco. Da Lautaro a Perisic. Chi parte e chi no. Per i nerazzurri non è un momento felicissimo. E poi c'è il caso Insigne. La telefonata di Mancini. Spalletti lo esclude. Il CT lo chiama per ricaricarlo. E poi ci sono le presentazioni delle partite di questa sera con l'Atalanta che sarà in campo all'Everkusen e la Roma che invece ospiterà all'Olimpico il Vitesse. Chiudiamo ancora con lo sport perché ieri sera al Massimino di Catania il Campobasso ha pareggiato per 1-1. Queste le immagini che arrivano dalla Sicilia. Ancora dunque un risultato positivo per la formazione di Mirko Cudini dopo il successo ottenuto contro il Messina. Non è partita bene la gara perché il Catania si è portato in vantaggio al quarto minuto con questa rete di Russini che ha infilato la retroguardia rosso-blu. Ma il Campobasso ha messo la testa bassa e ha iniziato a giocare e ha pareggiato con questo gol sensazionale di bontà. Questo destro sta affilata sotto la traversa che non ha lasciato scampo al portiere del Catania. Poi un po' di difficoltà nel finale per l'espulsione di pace con i lupi che hanno chiuso in 10 il match. Ed è stato quello di ieri un pomeriggio da incorniciare per Lisernia perché Lisernia ha battuto l'Aquila ai calci di rigore e accede ai quarti di finale della Coppa Italia nazionale Valentina Ciarlante. In presa Isernia che spugna lo stadio Gran Sasso d'Italia batte l'Aquila ai rigori e ottiene il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia di Lettanti. I bianco celesti sono tra le migliori otto squadre d'Italia del calcio regionale e ora il sogno di utilizzare questa porta d'accesso alla Serie D assume contorni sempre più definiti. Il 6 aprile appuntamento in casa con la polisportiva Ossese, squadra di Ossi, piccolo centro in provincia di Sassari che ha avuto la meglio sul Civita Vecchia e che è terza nell'eccellenza sarda. Lisernia arriverà a questo appuntamento con la carica di una vittoria abbagnata dall'entusiasmo e dall'affetto dei tifosi arrivati nel capoluogo abruzzese per sostenere Mingione e compagni. Abbiamo, credo, disputato anche oggi una grande gara con tanto impegno, sacrificio e alla fine credo che nell'arco dei 90 minuti, istante l'impegno messo e profuso, credo che Lisegna ha meritato questa soddisfazione. Prima della partita dell'andata quasi nessuno ci sperava, però all'andata abbiamo visto che l'abbiamo messo sotto, abbiamo visto che non abbiamo messo gollo, abbiamo visto che potremmo passare il turno e alla fine abbiamo strameritato di passare questo turno. E niente, oggi Lisegna è tra le prime otto d'Italia, l'Italia ha abbattuto l'Aquila che è una squadra che spende 5 volte quello che spende Lisegna. Siamo soddisfatti, siamo consapevoli che le due strade sono difficili però noi con questo gruppo, con questi ragazzi, con questa società, mister, staff, tutti, ce la metteremo tutta su ogni partita fino alla fine. Il presidente Traisci, emozionato, ha rivolto un nuovo appello agli imprenditori dell'area esernina. Sicuramente la coppa è importante, noi ci teniamo, ci teniamo a far bene, però lasciatemi fare un appello alle forze imprenditoriali, io sono solo, ho bisogno di una mano, qui non, senza, i tifosi sono venuti e sono ammirevoli e adesso anche la città deve fare il suo. Ora il palinzesto, cosa troverete oggi sulla nostra rete? C'è il film Radio Out, poi Camminando Molise, alle 14 l'informazione in diretta con la collega Rita Iacobucci, alle 19.30 Valentina Ciarlanti, alle 21 Molise Sport, Campobasso, Isernia, Basket, si parlerà ovviamente di tanto sport con Franco Presutti. È tutto, grazie per averci scelto, buona mattinata, arrivederci. Grazie a tutti, grazie a tutti.